Incredibile, bella ragazzi, siamo tornati sul canale di Melagodo con la prima Soccer Challenge Football Challenge, come cazzo vi vorrei chiamarla Su Melagodo, oggi siamo io, io, presentati, non t'hanno mai visto su Melagodo Darryl de Grananas, così però perché lui è Pop West Coast Milano E Frax, è Fazz, sì, è Fazz E oggi faremo Crossbar Challenge, già l'avete visto comunque sui nostri canali Quindi sapete già di cosa si tratta, dovremmo semplicemente prendere la traversa Che arriva per primo a tre c'è un'ape, porca puttana, vince Un'ape vince, vince più l'ape, le prossime sfide saranno sui nostri canali Ok, li trovi in descrizione, sdrogo, ciao bene, ciao Bello, comincia bene, molto sdrogo No, è andegliata in alto Bello Ander di incrocio No, traccia No, traccia Hai piuato pure Frazo, due? Due punti vale C'altro ne abbiamo, tocca a pialla, allora devo fare cosicci No, il migliore del mondo mi sbaglia così Vabbè regà, toccavi nel video Facciamo tempo Vabbè abbiamo giocato Se mi è più una balenotte la sviaggiana Guardi, guardi Dai, su un posto ne ho ancora che faccio E' lui Vale Non so se è pano No vale, è in crociopieno Non vuole mai dire pano eh No è in crociopieno È in crociopieno Pano E' in crociopieno Vabbè mi frega un cazzo E' 2 a 0 Se per me la godo Si chiude qui la sfida Con il mio tiro E' la terza travesse Noo O forse no Che c'è? Come si è fatto? E' un po' di olio E' un'altra E' un'altra Con questa si finisce il video Tiro finile Di Frax 1-1 1-1 Di Melagono Führer Insieme a Johnny Green La prende La prende E fa la vittoria Non sbaglio Che ha fatto? Ha tirato sulla telecamera? Se sbaglio muori E' uscito in denne ma con lo scozzo sulla schiena Allora niente il video è finito incredibilmente mi raccomando ho lasciato un like Arriviamo a 10.000 like per questo video E se volete altre sfide qui sul canale di Melagoto Ce ne abbiamo parecchie in serbo quindi potrebbe essere una cosa molto figa Serbo comunque Serbo Che abbiamo comunque in serbo Ma lui perché lui è il mio serbo E quindi abbiamo tante altre parecchie sfide in serbo Anche in croato E di conseguenza Lasciate un like E iscrivetevi ai nostri canali cliccando qui O qui nel vuoto Per chi si vede al canale di GodzRed Che sta cercando di prendere una traversa Per poter arrivare a due Ma non ci arriverà mai Niente like e bella Al prossimo video Bella